carissimi amici del lettore medio io sono mario e resto a casa e leggo oggi un bravo ragazzo di avie gutierrez come cambia la vita dio santo si bellissima biondissima occhi azzurri chiarissimi non parli molto di gabby solo qualche cenno di sfuggita non parli dei motivi per cui non sono riusciti a trovare una via d'uscita non racconti del male che vi state facendo della precisione chirurgica con cui fate a pezzi non parli dell'analisi dello psicologo non parli del senso di colpa non dici niente dolore niente danno ti vergogni di due strani sentimenti sempre oscuri sì un sacco di cambiamenti blanca chi avrebbe mai detto che sarebbe finita così blanca sorride improvvisamente il suo sorriso si rigidisce le si congela sulle labbra ci dimentichiamo le facce i nomi i particolari sbiadiscono gli scartiamo no blanca pensi non cominciamo lascia in pace il passato a volte ci ripenso dice blanca i suoi occhi sembrano vibrare a volte ripenso alla band ho ancora la nostra demo polo inciso su un'audiocassetta finisci la birra sul fondo del boccale rimasta una specie di schiuma da barba la guardi tutta roba andata blanca scomparsa corrosa dal tempo se potessi toccarla con le mani ma non puoi se potessi toccarla si trasformerebbe in polvere con le mani ma non puoi se potessi toccarla ma non puoi se potessi toccarla ma non puoi se potessi toccarla